A presto Diverse persone Virginia 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 Dove siete? Anche da bambina sognavo di annegare Mamma 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 è tu io Le donne secondo me Non dovrebbero sedere a tavola con gli uomini La loro presenza rovina la conversazione Perché tende a farla diventare Formale e banale I gatti neri hanno la coda? Virginia 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 Sono certa di stare impazzente di nuovo Sento che non possiamo affrontare Un altro di quei terribili momenti Inizio a sentire le voci Non riesco a concentrarmi Ti prego Leone Non volermi rinchiudere ancora una volta Nella malattia E non volerla cacciare da me ad ogni costa E non volerla cacciare da me ad ogni costa E non volerla cacciare da me ad ogni costa Virginia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.